Un pacchetto da 11 milioni e mezzo di euro sul lavoro minimo di cittadinanza. L'aggiunta vendola è passata alla fase attuativa della misura annunciata in estate coi sindacati. L'obiettivo chiave è coinvolgere disoccupati e cassi integrati in lavori di pubblica utilità, pulizia di spiagge, strade, manutenzione del verde, in cambio un sussidio da 500 euro mensili aggiuntivi in busta paga. I comuni riceveranno 4 milioni di euro per l'apertura dei cantieri. I beneficiari saranno selezionati in base ad un bando. Il lavoro di cittadinanza già in campo in 55 comuni salentini è rivolto ai percettori di ammortizzatori sociali. 7 milioni e mezzo di euro gli aiuti europei a disposizione dei comuni per alleggerirli di progetti spesso impediti dall'assenza di fondi, tra cui il risanamento ambientale e le opere di prevenzione del dissesto idrogeologico. Al centro della nostra battaglia c'è la lotta alla povertà. Ho osservato il governatore Vendola illustrando il provvedimento. Da un lato aprendo alla domanda di lavoro, dall'altro incentivando la formazione professionale. Tre gli assessorati coinvolti, sanità, formazione e lavoro. Lavoriamo a tutto campo perché la parola cittadinanza significhi soprattutto avere un minimo di reddito e un minimo di lavoro. Lo facciamo controcorrente. in un paese, l'Italia, in cui gli unici provvedimenti servono a togliere i diritti e a privare di reddito, noi andiamo in un'altra direzione.